Siete alla ricerca di un metodo per tenere traccia di tutte le vostre spese mensili che sia rapido ed efficiente? Ho l'applicazione perfetta per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Onify è un'applicazione che permette di tenere sotto controllo le vostre entrate ed uscite mensili in modo rapido ed assolutamente intuitivo. L'interfaccia molto semplice di quest'app vi guiderà fin da subito nel suo utilizzo. Basterà infatti cliccare su più per annotare un aumento di disponibilità oppure meno per sottrarla. Al momento dell'inserimento potrete anche aggiungere un titolo alla vostra operazione e classificarla in una categoria. In questo modo sarà più facile ritrovare la registrazione se necessario. Inoltre MoneyFi offre la possibilità di controllare quali movimenti sono stati annotati in un determinato periodo. Potrete così tener sotto controllo il vostro bilancio personale e non essere più sorpresi da spese che non ricordavate di aver sostenuto. L'applicazione è totalmente personalizzabile in base alle vostre esigenze. Potrete ad esempio eliminare alcune categorie e dividere le operazioni realizzate in contanti da quelle con carte di credito o di debito. L'applicazione è scaricabile su Android, iOS e Windows Phone. Le sue funzioni di base possono essere utilizzate totalmente in modo gratuito. Tuttavia MoneyFi è disponibile anche in versione completa con tutta una serie di funzionalità aggiuntive. Acquistando l'app premium potrete ad esempio salvare in cloud tutti i vostri dati in modo da non perderli quando deciderete di cambiare il vostro smartphone. Sempre con la versione completa di MoneyFi avrete anche la possibilità di proteggere i vostri bilanci con un codice PIN e personalizzare ancora di più l'applicazione aggiungendo delle categorie per tenere sempre in ordine i vostri conti. Direi che anche per oggi è tutto. Io vi ricordo di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!